Ciao a tutti, oggi ci troviamo a Bronte, provincia di Catania. Assaggeremo oggi il primo arancino al pistacchio. Dentro così, dentro così, prema di pistacchio. Una cosa buonissima. Andiamo! Buon appetito! prego genio e nove in best che ne pensi? è spettacolare SUSCRÍBETE crema di pistacchio e di brocco un saluto da Bronte da Bronte è tutto vi aspettiamo per Floresco per la Sagra del a domenica prossima grazie a tutti